Si è svolto a Ponte d'Era il corteo delle natività e dei presepi viventi più lungo d'Italia. Durante la manifestazione è stato steso uno striscione per la pace del mondo lungo quasi un chilometro realizzato con dipinti e messaggi su lenzuoli riciclati e realizzati da scuole, associazioni e presepisti di tutta Italia. Il ritrovo dei figuranti si è svolto alla chiesa di San Giuseppe. Il corteo delle natività e dei presepi viventi è un appuntamento ormai consueto per quanto riguarda l'Associazione Nazionale Città dei Presepi ed è giunto alla sua quinta edizione, un appuntamento che è diventato un vero e proprio evento di per sé stesso che annuncia la natività e che vede coinvolte tantissime realtà che in ogni paese realizzano le proprie rappresentazioni e che hanno deciso di scegliere un giorno per poter far sì che ci sia preventivamente un annuncio del Natale. L'edizione del 2022 è caratterizzata dal fatto che abbiamo imminente gli 800 anni del presepe realizzato da San Francesco per cui questa scena iniziale del presepe viene aperta con la rappresentazione della regola data da San Francesco e poi approvata da Papa Innocenzo III. Dopodiché San Francesco si calerà in quella che è proprio la rappresentazione del primo presepe e quindi i presepisti sfileranno secondo il loro ordine e realizzeranno quelle che poi sono le scene principali del presepe che sono caratteristiche come quella del censimento, come la realizzazione della Bethlehem con la scena della Madonna e di San Giuseppe che cercano un alloggio per concludersi poi con la scena della natività. I figuranti sono tantissimi, non si possono contare, sicuramente in costume sono più di 300-350 però questo presepe ha la caratteristica di essere realizzato in ogni tempo cioè per cui tutta la storia adoria Gesù che nasce per cui chiunque di noi, come dice Monsignor Migliavacca, come ci ha ripetuto più volte è un personaggio del presepe sta poi a tutti noi fare in modo di capire qual è il nostro ruolo e qual è il nostro posto all'interno del presepe.